Buongiorno! Buongiorno! Questo è il nostro ultimo giorno qua, adesso andiamo a fare un'ultimissima visita e poi di nuovo tutti a casa. Ah, caldo! Vabbè, qua ne faceva poco, vero? Vabbè, giù dicono che fanno 36 gradi. Restiamo su. Siamo arrivati all'orrido di Ponte Alto. E niente, adesso ci facciamo un bel bagnetto. Sicuro, ultima meta della nostra vacanza. Siamo arrivati all'inizio. Siamo arrivati all'inizio. Niente, abbiamo finito il nostro tour nel orrido di Ponte Alto. E adesso andiamo a casa. Andiamo a casa, capisci? E niente. Quindi, un altro seguimento a voi per la visione. Mi raccomando, seguiteci, vedete tutti i video della nostra vacanza. Anche perché sono molto divertenti. Allora ragazzi, l'orrido di Ponte Alto è davvero bello. Ci sono queste due cascate di cui la seconda, nella quale si va anche dietro, i 40 metri. Non vi bagnate come nella cascata di Barone. No, no, bagnare non vi bagnate. Ma ve lo consigliamo. Sì, potete portarci anche bambini tranquillamente. E anche la guida, ricordiamo che bisogna prenotare prima. Bisogna prenotare online. O potete prendere il biglietto qua, ma se eventualmente non ci fosse più posto, non potete riportare. Esatto. Eventualmente, se volete farvi un bagno, andate alla grotta della cascata di Barone. Invece qua, tranquillo. Molto tranquillo. Il bagno fatevelo prima. Esatto. E in più c'è una visita guidata di 45 minuti, che racconta un po' quella che è la storia. Non è per niente pesante, guida molto molto brava, molto professionale e sa anche intrattenere bene.